eccoci di nuovo al circo di Moira Orfei grazie a tutti grazie a tutti ma ancora non sapete di chi cosa sono capaci i trapezisti sono tra gli artisti più amati del circo ed è facile immaginare perché acrobazia, energia, allegria e caletto è tutto volando nel cielo della pista grazie a tutti attenzione ora Mitch tenderà di eseguire un triplo salto mortale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti incredibile un triplo salto mortale e un'uscita in doppia piruetta vi ho detto che i Flying Bulber sono dei veri fuoriclasse grazie a tutti 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 giù dal punto più alto dello Shopee Top. Bravissimi! Bravissimi! Il Flying Bulber! Grazie!